benvenuti tutti quanti spero che siate bene cominciamo sempre con una piccola meditazione di presenza quindi chiudiamo gli occhi sentiamo bene i nostri appoggi la pianta dei piedi a terra posso alzare un pochino l'alluce per distribuire bene la pianta dei piedi a terra sentire l'appoggio sulla sedia degli ischi se posso la schiena distaccata dallo schienale spalle rilassate le scapole avvicinate le tiro verso il basso rilasso le spalle semplicemente metto le mani sul cuore e respiro dal cuore sento questo calore questo sole che è nella zona del mio cuore dal plesso solare si espande fino a prendere tutto il cuore ed è una luce forte che si vuole espandere calda luminosa dorata e sento che ad ogni respiro si espande un po' di più sento che forse anche le mani diventano calde e osservo respiro con la pancia l'idea è sempre quella di assorbire dalla terra la linfa vitale della terra l'energia vitale il campo elettromagnetico farlo salire nella pancia e poi per respirare porto questo flusso d'aria verso l'alto lungo la colonna mio canale centrale attraverso il cuore la gola dietro gli occhi e attraverso la mia corona sale verso l'universo riprendo il respiro dall'universo questa luce dorata quasi liquida dello spirito, del respiro che entra in me attraverso il cervello la testa, la gola, il cuore e poi espiro verso la terra e idealmente mantengo aperto questo canale centrale tra la terra e il cielo ispiro dalla terra dal chakra numero 10 quello più è un chakra molto forte che è dentro la terra è al di fuori del mio corpo una 50-60 cm o anche di più dentro la terra ispiro poi fuori dal attraverso l'ottavo, il nono chakra che sono in alto oltre il mio corpo ma sono sempre parte della mia della mia energia della mia consapevolezza che è parte di quello universale immagino di essere seduto in un cerchio con tutti i partecipanti di questa sera e non solo questa sera invitiamo al nostro cerchio tutte le altre persone che hanno deciso di conoscere se stesse e quindi di conoscere la propria essenza la propria luce tutte le persone che sono in cammino è un cerchio molto grande che circonda e avvolge tutta la terra questo momento sono connessa in un cerchio con tutte le persone che stanno ricordando la propria essenza di luce e forse posso notare delle differenze di tradizioni, di cultura, di colori, di passato che sono i desideri noto queste differenze sulla superficie ma percepisco che sotto circola questa luce liquida dorata immacolata che ci accomuna e provo amore provo un senso di fratellanza di sorellanza con tutte queste persone che so che ci sono nel mio lavoro non sono mai solo non sono mai isolato sono sempre in comunicazione con tutte queste persone che abitano la terra e stanno riconoscendo e sentendo la luce dentro di sé e adesso con questo stesso sguardo amorevole che ho verso queste persone provo a vedere davanti a me e mantenendo lo stesso sguardo anche le persone della mia cerchia più ristretta marito, la moglie, i figli il vicino di casa i miei colleghi di lavoro li guardo allo stesso modo e scopro che c'è anche in loro questa luce dorata che scorre nel momento in cui la lascio scorrere in me la riconosco anche in loro e continuo ad abbracciare la terra insieme a tutti i miei compagni di cammino e sento la sacralità di questo spazio comune che abbiamo insieme ci possono essere delle densità diverse degli stati di consapevolezza diversi ma è la stessa luce che ci attraversa e sento questo cerchio questa aureola intorno alla terra fatta da questo flusso di luce dorata bianca trasparente che circola attraverso il cuore di tutti coloro che stanno ricordando chi sono perché sono qui per stringere la terra per stringersi insieme al di là delle differenze superficiali e sento sempre più calore sempre più forza energia che mi arriva e trasmetto agli altri e mi impegno a diventare io quello che vorrei che fosse il mio vicino mi trasmetto la mia luce ricevo la sua e siamo in un cerchio grande di luce intorno alla terra sento questo respiro comune sento anche il respiro della terra che è molto lento molto lento ho un battito suo sento il mio battito e piano piano allargo le mani stringo le mani dei miei vicini e do una piccola stretta per dire ci sono ti sento siamo insieme piano piano lascio andare riporto le mani sul mio cuore saluto i miei compagni di cammino e torno al mio cuore saluto la terra e riporto questo flusso dentro di me faccio ancora qualche respiro profondo stabilizzo questa luce che so essere sempre dentro di me e posso decidere in qualunque momento di farla circolare di farla uscire fare un paio di respiri piano piano abbasso le mani e mi preparo ad aprire gli occhi gentilmente dolcemente e a mantenere lo sguardo che avevo prima riatterro qua nella mia stanza e forse abbiamo tutti sentito che siamo un continuum di luce siamo questa continuità di luce e siamo questa frequenza questa banda molto larga invisibile che dall'infinito dal senza forma si contrae piano 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 nella nostra fisicità nel nostro corpo e dalla luce estrema piano piano passa anche attraverso all'altra estremità dello spettro quando è più densa più più inconsapevole più oscura ma noi siamo tutta questa gamma siamo l'intero spettro della luce dalla parte angelica a quella più oscura nel momento in cui io sono nella mia essenza la vedo fuori nel momento in cui sono solo nella mia testa non vedo tutta questa luce che è sempre abbagliante ma siamo sempre in contatto siamo sempre un unico flusso vitale luminoso che circola qual è la differenza? la differenza è quanto decido è sempre una mia decisione di lasciar passare luce quanto decido di aprire la mia porta più la apro più passa luce più la chiudo meno ne passa e quindi fuori vedo che ci sono delle costrizioni dei cosiddetti problemi a cui reagisco da quello spiraglio piccolo nel momento in cui la mattina decido quanto voglio aprire quanta luce voglio far passare oggi in base a quello decido la mia giornata è sempre e solo una decisione perché creiamo la frequenza che emettiamo questo ormai scientifico è pura scienza più offro una banda larga più luce entra questo lo sentiamo lo comprendiamo e il momento ideale per decidere di farlo è sempre la mattina innalzi la tua frequenza fino a vedere lo spettro più ampio la tendenza che invece abbiamo quando osserviamo gli altri che sono sempre nello stesso ciclo di vita ma in fasi diverse anche noi durante la giornata siamo in fasi diverse però ci aspettiamo che l'altra persona che transita in quel piccolo cono della mia attenzione siamo 8 miliardi sulla terra io vedo solo una persona che per pochi minuti transita nel mio campo vi rendete conto di quanto minuscola sia la nostra attenzione io proietto tutto su questa persona e mi aspetto che la sua pace determini la mia pace penso di avere bisogno che il mondo sia in pace per essere io in pace ma da un piccolo spiraglio non succede molto apro non ho più bisogno di aspettarmi che il mondo sia perfetto per essere io in quello stato questa è la grande differenza dell'aprire dell'aprire lo spettro delle mie frequenze se voglio vedere la luce dell'altro devo proiettarne di più è così semplice è così semplice le verità sono semplicissime la mente complicata che calcola prevede si aspetta anticipa e tira delle conclusioni che si vanno a incastrare con le nostre credenze limitanti quindi per quello dico deve essere una decisione perché vai contro corrente vai contro la gravità l'intenzione chiara deve andare contro corrente quindi come se noi fossimo i custodi di questa soglia e decidissimo noi quanto aprire questo portale della luce l'abbiamo sentito con il sostizio c'è stata questa apertura la giornata massima di luce quanto può essere aperta ma nell'emisfero sud hanno avuto la notte più lunga e noi siamo tutti e due noi siamo tutti e due e il lavoro il nostro destino il gioco la bellezza è abbracciarle tutti e due riconoscerle nell'altro riconoscere in se stesso quindi non ho bisogno che gli altri si risveglino per sentirmi io risvegliato non devo aspettare che gli altri siano d'accordo con me o mi rispettino per sentirmi rispettato per trovare la mia armonia capite che un fascio di luce non può essere limitato da una piccola puntino nero da una piccola oscurità lo travolge lo illumina solo quando siamo confinati nella testa nelle nostre aspettative allora abbiamo bisogno che la gente si comporti in un certo modo la gente non si comporterà mai come voglio io così come io non mi comporto sempre come vuole un'altra persona noi siamo luce 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 e luce quando siamo radicate in questa luce è più facile da vedere e un'altra cosa da ricordare è che nulla può accadere senza il mio permesso ho incontrato di nuovo lungo la strada quella persona che mi fa sempre arrabbiare mi fa arrabbiare perché è inconsapevole che cosa ho appena detto ho appena detto che io ho deciso di far uscire poca luce che io sono inconsapevole perché non ho visto la sua luce questo è il percorso finché noi continueremo a formulare delle frasi in cui diciamo mi sono arrabbiata mi sono irritata perché quella persona inconsapevole si è comportata male con me non ci sono i parametri necessari di un essere che è centrato nella sua luce l'osservazione è ho fatto uscire così poca luce che non sono riuscito a vedere la sua ho perso un'occasione ma tra due minuti mi rifaccio con la prossima persona la inondo di luce e vedrò la sua luce questo è il percorso della spiritualità Ramana Marsh il grande maestro onorato da Eckhart e da tutti quando gli hanno chiesto ma qual è il segreto della via spirituale lui ha detto è non reagire stai in silenzio non dire niente non reagire è lo stato più elevato di una via spirituale ci arrivi a gradi accorciando i tempi di reazione ma per lui se ci pensate è questo a che cosa reagisco a quello che produco e che cosa produco ristretto o ampio io sono un regno di luce e più la esprimo più sto prendendo possesso del mio regno che è uno senza condizioni se continuo a porre delle condizioni fuori l'esistenza continuerà a porle a me tutto quello di cui faccio esperienza è un altro aspetto di me tutto quello di cui faccio esperienza è un altro aspetto di me e Carlo dice chiarissimamente tu crei la tua cosiddetta realtà con i tuoi pensieri e aggiungerei credenze limitanti sentivo un video questa mattina tu crei la tua realtà che realtà vuoi creare lo decidi luminosa o problematica con tante ombre dipende da dove ti poni rispetto alla luce se dai la schiena alla luce vedi ombre se esci sei immerso nella luce non puoi vedere altro nulla accade senza il tuo permesso dice cosa vuol dire decido io cosa far entrare cosa far uscire è sempre una mia decisione altrimenti sono una vittima che dipende dalle circostanze e non sarò mai libero mai un creatore mai una persona spirituale se dipendo dalle circostanze esterne io decido il mio stato io sono il sovrano del mio regno e un buon sovrano accoglie tutti ama tutti comprende tutti senza condizioni quindi non sono gli altri che decidono il mio stato non è quella persona inconsapevole che decide di fare diventare inconsapevole anche me non può funzionare così dov'è l'evoluzione? è un ping pong quindi Eger dice state molto attenti ai vostri pensieri a cosa producete perché quello si manifesta nel vostro film nella vostra realtà e poi lo interpretate in base alle vostre credenze e quindi è un film super fantascienza che non è la realtà per questo volevo questa sera parlarvi di un fondamentale perché senza questi fondamentali continuiamo a produrre dei pensieri che non ci portano avanti questo è un principio fondamentale io sono un regno di luce quanta luce voglio emettere in base a quello creo la mia vita tutti lo dicono lo dice Ecker lo dice Einstein la qualità la felicità della tua vita dipende dai tuoi pensieri se pensi che quello là è un cretino perché si è comportato male non ti crea una bella vita se pensi che anche lui ha un momento di inconsapevolezza come me ok tutto cambia e comunque c'è chi deve rimanere inconsapevole e c'è chi si deve evolvere e la percentuale è molto diversa bastano pochissime persone presenti risvegliate nella luce rispetto a quelle che non lo sono perché perché un'energia organizzata coerente potente l'energia inconsapevole oscura è disorganizzata non ha potere capite possono essere miliardi ma un gruppo determinato presente ha molto più potere i numeri non c'entrano è l'intensità e la qualità di quanto è coerente ordinato è una geometria se lo spezzi non ha nessun potere una geometria ha una sua potenza quindi la mattina pensateci bene prima di giudicare qualcuno pensateci molto bene non tutti si devono evolvere e la loro funzione lo dicevamo già un'altra volta chi non si evolve è un ottimo rimando a chi si vuole evolvere di come può essere se non si evolve è un'ispirazione chi si sta evolvendo lo è per chi no è sempre uno scambio siamo tutti nella stessa banda in un momento diverso ma in questo sta la nostra grandezza innata da riconoscerlo perché creare la sofferenza a me e all'altro perché l'ego è assuefatto come dice Eka corpo dolore è assuefatto la sofferenza si alimenta di quello perché nell'apertura nella luce è come se scomparissi l'ego vuole mantenere la sua identità vuole mantenere i suoi traumi i suoi drammi perché è una forte identità dice sempre Eka l'ego è forte nell'essere il migliore o il peggiore tu non sai come soffro io tu non sai cosa ho passato io e racconti è quella la tua identità e ci torni col pensiero quindi l'ego ha questo suo spettro ma è disfunzionale è disfunzionale la mente di per sé ha delle funzioni incredibili si viene usato dalla presenza si viene lasciato a sé se non lo connetti con il respiro con il corpo con la centratura con la luce fa solo che disastri come sappiamo e come vediamo e in più diceva anche un'altra cosa in questo video che vedevo Eka diceva se ti arrendi a uno stato di ansia di irritazione che tu attribuisci a un altro un'altra conseguenza è che apri una corrente di pensiero che ti collega a ogni essere ansioso irritato arrabbiato della tua città entra in un campo della consapevolezza o inconsapevolezza umana che contribuisce al tuo stato non siamo soli non siamo isolati nella luce e nella inconsapevolezza lo vediamo su Facebook nelle notizie e in più si lega alla credenza che sono tutti degli idioti che sono tutti inconsapevoli quindi prima di formulare dei giudizi vediamo come possiamo dirlo in termini un pochino più evoluti c'è sempre un margine di evoluzione dipende da quanto voglio concentrarmi sulla luce su quello che sono quindi la consapevolezza lo dice Eckhart la consapevolezza è la risposta a tutto cosa sto dicendo perché l'ho detto perché lo penso lo vedo e mi chiedo perché devo essere abbastanza onesto abbastanza allenato alla presenza da sentirlo quindi l'esercizio che vi invito a fare la primissima irritazione della mattina perché sento questa irritazione da che cosa è causato perché ho risposto in quel modo e soprattutto perché lo ripeto e lo ripeto e lo ripeto c'è qualcosa che taglia questa mia reazione potrebbe essere decidere di aprire più luce apro la porta e proietto più luce e vedo che non ho più quel giudizio non ho più quel commento forse non ho niente oppure ho un altro tipo di commento e vedi che una volta che ti è chiaro chi sei che sei luce lì è il tuo potere incredibile è lì il tuo potere non è il potere del controbattere e litigare con l'altro il tuo potere è dire vado da un'altra parte non rispondere non rimanere con quel quel giudizio che ti circola nella la famosa Eger la chiama la voce nella testa non alimentare la voce nella testa è successa una cosa così come viene ma la tua energia è preziosa come come quando organizzi le finanze devi fare un budget io ho questa energia dove la voglio mettere nell'irritarmi nello star male o nel dire po resto concentrato dentro l'esercizio soggetto e oggetto quando mi sento irritato quanta energia va nell'altro tutta la mia energia la riporto a me perché ne ho bisogno mi riprendo l'energia siamo troppo proiettati fuori a una persona su otto miliardi che transita nel mio cono visivo per qualche minuto vi rendete conto della piccolezza? chi se ne importa? ci sono persone inconsapevole che in questo momento mi transitano davanti ce ne sono altri otto miliardi che sono diversi e so che ci sono persone come me che vogliono rimanere presenti e allora mi connetto con quella energia così come prima diceva Eckhart mi connetto con l'energia di tutti quelli irritati della mia città in questo modo mi connetto con l'energia di tutti quelli presenti nel mondo perché sono più potenti sono organizzati non sono persi non vagano quindi il nostro interesse è di essere dei convertitori di energia come la voglio convertire? è sempre e solo una decisione non siamo le vittime degli altri questo è il nostro il nostro destino il nostro compito qua la mia spirituale è semplicissima è una decisione voglio essere presente voglio essere luce o voglio additare gli altri rendere gli altri responsabili sapendo benissimo che non è così perché è una mia proiezione da un angolo troppo ristretto il discorso è tutto qua Eckhart è fantastico perché il suo insegnamento alla fine lo puoi veramente ridurre in due frasi sono presente o non sono presente se non sono presente creo sofferenza a me e agli altri punto è tutto qua ha scritto dei libri fantastici ma alla fine il suo messaggio il potere di adesso che cos'è? sei tu nella tua presenza che sei al massimo del potere e quindi puoi decidere della tua vita della tua vita del tuo destino delle esperienze che hai perché le produci te con i tuoi pensieri quindi la mattina l'esercizio è fare la lista della spesa devo comprare i pomodori le patate passare dal commercialista passare dal dottore e poi anche la lista delle cose che non devo fare devo giudicare devo irritarmi per il traffico no fare una lista delle cose da non fare oggi e ogni tanto ti torna la memoria ti torna l'occhio vicino le zucchine cioè anche non ho bisogno di irritarmi non ho bisogno di arrabbiarmi e oggi non lo faccio e vedo come mi sento la sera rivedo la lista e dico mi sento più leggero come mai? perché mi sono ricordata di non giudicare di non reagire rispondere ma non reagire il progetto più grande della nostra vita siamo noi lo capite come ci possiamo mettere a punto organizzare fare il restart ogni mattina si ricomincia ogni mattina si ricomincia e ti fai il restart ti rifocalizzi su quello che vuoi e quello che non vuoi tutte le volte che serve e ricominci devi sviluppare questa abitudine questo è quanto c'è un esercizio bellissimo che voglio farvi fare anche se è tardi è spettacolare allora si chiama le quattro versioni una storia chi se la sente può prendere una storia grande la storia della tua vita quello mi ha fatto questo quando è successo qualcosa che ti ha toccato una storia oppure può essere piccola potete anche cominciare da una storia piccola ieri mattina mi ha tagliato la strada una macchina sportiva io mi sono arrabbiata anche quella va bene allora questa è la storia e la ripeto la ripeto e la vedo provate a chiudere gli occhi rivedo oh la storia della mia vita drammatica mio papà mi ha detto questo è successo questo se ve la sentite oppure una storia piccola e la rivedete fase numero uno fase numero due rivedo la stessa scena come se fosse un'opera teatrale una commedia quindi ti vedi tu che cammini in un modo buffo vedi l'altro che fa le cose in un modo buffo vestito strano e rivedi nella tua mente la stessa identica scena in chiave di commedia da ridere provate a farlo è un gioco quindi prima frase la tragedia così com'è seconda fase la trasformo in commedia con i personaggi divertenti tutto quanto la terza fase la stessa storia la racconto come la racconterebbe un cane giocate provate i microfoni sono spenti nessuno sente nessuno raccontate la stessa storia come se fosse un cane la stessa storia ok ultima fase qui rivedo la stessa identica scena e sono io a raccontarne la saggezza che cosa ho imparato da questa storia la saggezza che si nisconde dietro questa storia che ho visto in tre modi diversi e in che modo brillante io ne ho tratto un insegnamento provate a vederlo la storia qual era il messaggio la saggezza che ne ho tratto e basta questo esercizio potete usarlo sono quattro passaggi la storia così com'è il drammone seconda fase la commedia ve la riraccontate in termini comici la terza fase come la racconterebbe un cane il vostro cane come la racconterebbe l'ultima fase la saggezza che ne ho tratto l'insegnamento e quindi capite bene che si chiude con la gratitudine la stessa storia è molto divertente mi auguro che diventi una vostra abitudine perché ci vuole il gioco ci vuole come dice sempre Eckhart il primo passo verso la mia spirituale e non prendersi troppo sul serio non prendere ogni pensiero troppo seriamente questo Eckhart lo dice sempre e cominciamo così bene sono andato oltre il mio tempo grazie a tutti per aver ascoltato per essere qua spero che mi siate divertiti chiudo e riapro per le condivisioni grazie a tutti grazie a tutti